Signor Sindaco, buongiorno. Oggi è una gesonata memorabile. Sicuramente lei gioisce, lo vedo sorridente. Ci spieghi però il motivo. Siamo cattivi. Oggi per noi è sicuramente un giorno importante. Siamo qui a presentare una notizia per il nostro territorio, senz'altro strategica, cioè l'avvenuto finanziamento del progetto Vela, progetto di messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali che si estende su 12 comuni diversi. Abbiamo i comuni di Lanzo Torinese, di Cafassi, di Robassomero, di Villa Nova Canavese, di Nola, di Cirie, di San Maurizio Canavese, di Borgaro, di Caselle, di Venaria Reale, di San Carlo Canavese e di San Francesco al Campo. Questo progetto ci consente di mettere in sicurezza una serie di piste ciclopedonali per un totale di circa 25 km di nuove piste che consentiranno di collegare in totale 100 km di nuove piste ciclopedonali. È un progetto che consente di riunire le zone rurali dei nostri territori con i centri abitati e che soprattutto consente di collegarci ai principali punti di interesse sul territorio, quindi ospedali, stazioni ferroviarie, l'aeroporto della città di Torino, Sandro Pertini, che è sicuramente per noi un punto di riferimento. Non ci dimentichiamo poi la valenza turistica di questo progetto, cioè il collegamento tra Venaria, quindi tra la regia di Venaria e il parco La Mandria, fino ad arrivare al Ponte del Diavolo, a Lanzo Torinese. Non possiamo nascondere naturalmente la soddisfazione per l'avvenuto finanziamento di cui il Comune di Nole è stato soggetto capofila e come ente promotore, ma vogliamo in questa sede sottolineare l'importanza della collaborazione che abbiamo avuto sin dall'inizio con la Regione Piemonte, che è il principale finanziatore di questo progetto, con un milione e mezzo di euro di finanziamento, e poi la città metropolitana, soprattutto il servizio viabilità, che ci ha assistito nella stesura del progetto, fino ad arrivare all'ente parchi reali, che è stato determinato in alcune scelte strategiche. Buonasera a tutti, sono Paolo Gremo, Vice Sindaco del Comune di Caselle, uno dei comuni che ha partecipato alla realizzazione del progetto Vela, progetto Vela che è stato finanziato in parte, cofinanziato dalla Regione Piemonte, una bella e grande opportunità per il territorio, per garantire una mobilità sostenibile, un bel lavoro fatto da tanti comuni messi insieme che hanno lavorato su un progetto unitario e dando dimostrazione che quando si lavora insieme, e quando il territorio si muove in modo coeso, i risultati arrivano. ...e Marco Boni che hanno seguito in particolare questo valore, questa presentazione, stanno seguendo un po' tutto il tema della ciclabilità. ... ... ... Grazie a tutti.